Procedono a rilento, causa in maltempo, i lavori di recupero e valorizzazione del paesaggio fluviale mediante interventi di forestazione, recupero ambientale e realizzazione della pista ciclopedonale della Val Gandino mentre tre comuni dell'Asta del Serio, Val Bondione, Gromo e Gandellino attendono il contributo necessario alla messa in atto del nuovo collegamento. Stiamo disperatamente cercando questi 300.000 euro perché l'intervento riguarda tutta la pista ciclabile da Gandellino Gromo, Gandellino e Val Bondione, è un intervento di un milione di euro di questo milione di euro 500.000 ce li ha dati con contributo da fondo perduto la regione Lombardia 100.000 euro ce li hanno garantiti quella che è la comunità montana altri 100.000 euro verranno messi dai tre comuni, pertanto arriviamo a 700.000 euro mancano 300.000 euro e abbiamo chiesto alla provincia di Bergamo di poterci finanziare parte di quest'opera noi però confidiamo veramente che la provincia di Bergamo possa darci una mano perché sarebbe veramente un peccato non fare un'opera ed averla già finanziata al 70%. Un tracciato a poco più di 3 km di pista che si snoderà lungo la sponda sinistra del Serio. Un'opera che permetterà a chi lo desidererà di arrivare a Gromo, trovare un ampio parcheggio, prendere la bicicletta o fare una passeggiata pidonale fino a Val Bondione. Sono circa 15 km di pista ciclopedonale e sicuramente anche questo dovrebbe garantire un certo flusso turistico. Il primo lotto di lavori per la ciclopedonale in Val Gandino iniziati a luglio dello scorso anno nel comune di Casnigo avranno un costo complessivo di 473.560 euro. Siamo a un terzo più o meno dei lavori e stiamo andando avanti un po' il tempo che siamo rimasti un po' indietro che tutto inverno che piove, penso un 5 o 6 mesi per finire questo lotto.